aneddoto avevamo cenato insieme con un gruppo di amici ed eravamo ancora seduti nello studio del nostro ospite fumavamo e nel parlare eravamo un po' inclini alla meditazione e al sentimentalismo parlavamo del velo di Maya e del suo aspetto cangiante di quello che Buddha chiama l'aver sete della dolcezza del desiderio struggente e dell'amarezza della conoscenza, della grande seduzione e del grande inganno il discorso era caduto sulla mortificazione dello struggimento e si era affermato il principio filosofico secondo il quale il fine di ogni struggente desiderio sarebbe il superamento del mondo sulla scia di queste osservazioni qualcuno narrò il seguente aneddoto che assicurò essersi verificato come letteralmente ce lo riferiva nella società elegante della sua città natale se aveste conosciuto Angela la moglie del direttore Becker la piccola e celestiale Angela Becker se aveste visto i suoi occhi azzurri e sorridenti la sua bocca dolce la deliziosa fossetta sulla guancia i riccioli biondi sulle sue tempie avreste partecipato anche voi alla trascinante meraviglia del suo essere sareste impazziti per lei come me e come tutti che cos'è un ideale? non è soprattutto una forza che dà vita una promessa di felicità una fonte di entusiasmo e di energia e quindi un pungolo e uno stimolo per tutte le forze spirituali da parte della vita stessa allora Angela Becker era l'ideale della nostra società la sua stella quello a cui essa aspirava quantomeno io sono convinto che nessuno del cui mondo lei facesse parte potesse scacciarla dai propri pensieri nessuno potesse immaginare di perderla senza avvertire che ci avrebbe rimesso la gioia e la volontà di vivere che il suo dinamismo ne sarebbe stato immediatamente compromesso parola mia le cose stavano così Ernst Becker se l'era portata da fuori era un uomo cortese e silenzioso per il resto non particolarmente significativo con una barba bruna Dio solo sapeva come avesse conquistato Angela comunque era sua originariamente giurista e funzionario statale era entrato in banca a 30 anni evidentemente per poter offrire alla ragazza che sperava di impalmare la giatezza e la tranquillità economica perché subito dopo si era sposato in quanto condirettore della hipoteca in bank percepiva uno stipendio di 30-35 mila marchi e i Becker che tra l'altro non avevano figli partecipavano attivamente alla vita sociale della città Angela era la regina della stagione l'eterna vincitrice di Cotillon il fulcro di ogni serata a teatro il suo palco durante le pause era pieno di gente che aspettava e sorrideva rapita il suo banco e bazzar di beneficenza era preso d'assalto dagli acquirenti che si accalcavano pronti ad alleggerire i loro portafogli pur di poter baciare la manina di Angela ed avere un sorriso delle sue labbra soavi a che servirebbe definirla splendida e deliziosa? il dolce fascino della sua persona può essere descritto solo dagli effetti che provocava faceva languire d'amore vecchi e giovani donne e ragazze l'adoravano i giovanotti le mandavano omaggi poetici e floreali un tenente ferì a una spalla un consigliere governativo in un duello nato da una lite che avevano avuto a un ballo per via di un waltzer con Angela divennero poi amici inseparabili uniti dalla venerazione per lei dopo le cene i vecchi signori la circondavano per ristorarsi alla fonte della sua incantevole conversazione della sua mimica divina e faceta alle guance di quei vecchi riaffluiva il sangue amavano la vita erano felici una volta un generale naturalmente per scherzo ma col volto acceso dal sentimento si era inginocchiato davanti a lei in mezzo al salone eppure nessuno né uomo né donna poteva vantarsi di essere davvero in confidenza con lei e di esserle amico con l'eccezione naturalmente di Hans Becker e lui era troppo silenzioso e modesto e anche troppo poco espressivo per gloriarsi della sua fortuna tra noi e lei rimaneva sempre una certa distanza a cui forse contribuiva la circostanza che soltanto di radola si vedeva al di fuori dei salotti e delle sale da ballo anzi a ben pensarci veniva fuori che quasi mai si era incontrata quella splendida creatura alla luce del giorno ma sempre di sera sotto la luce artificiale e nell'effervescenza della mondanità così aveva in noi tutti adoratori ma né un amico né un'amica ed era giusto così perché cosa sarebbe mai un ideale se si potesse dargli del tu il giorno evidentemente Angela lo dedicava ai lavori domestici a giudicare dalla magnificenza che contraddistingueva le serate in casa sua queste erano famose e costituivano davvero il culmine dell'inverno merito della padrona di casa occorre precisare perché Becker era un ospite cortese ma non certo un intrattenitore in quelle serate Angela superava se stessa dopo cena si metteva all'arpa ed accompagnandosi col fruscio delle corde cantava con la sua voce argentina sono cose indimenticabili il gusto, la grazia, la vivace presenza di spirito con cui organizzava la serata erano incantevoli la sua amabilità equilibrata e radiosa conquistava ogni cuore e i modi premurosi e anche furtivamente teneri con i quali si rivolgeva al consorte si mostravano la felicità la possibilità della felicità empiendoci di una fede nel bene così consolante e struggente quale forse solo la sublimazione della vita ad opera dell'arte può donare questa era la moglie di Ernst Becker e tutti speravano che sapesse apprezzare quello che aveva se si era in città un uomo invidiato questo era lui e c'è da immaginare che gli capitasse spesso di sentire che era stato baciato dalla fortuna glielo dicevano tutti ed egli accoglieva queste manifestazioni di invidia con gentile condiscendenza i Becker erano sposati da dieci anni il direttore aveva 40 anni ed Angela circa 30 poi un giorno accadde quanto segue i Becker dettero un ricevimento una delle loro serate memorabili era una cena con circa 20 coperti il menù era eccellente e l'atmosfera assai animata quando al gelato si aggiunse lo champagne si alza un signore uno scapolo di una certa età e fa un brindisi brinda ai padroni di casa e alla loro ospitalità a quell'ospitalità autentica e ricca che deriva da una sovrabbondanza di felicità e dal desiderio di farne partecipi molti altri parla di Angela e la loda dal profondo del cuore si cara magnifica e grecia signora afferma volgendosi verso di lei col bicchiere in mano se io vivo da scapolo è perché non ho trovato una donna che fosse come lei e se mai mi dovessi sposare una cosa è certa mia moglie dovrà somigliarle come una goccia d'acqua poi si rivolse a Ernst Becker e gli chiese il permesso di ripetere ancora una volta quello che tanto spesso aveva sentito come noi tutti lo invidiassimo ci felicitassimo con lui lo chiamassimo beato poi invita tutti i presenti a unirsi al suo brindisi in onore dei nostri ospiti benedetti da Dio il signore e la signora Becker e che giorno è viva tutti si alzano per brindare con i padroni di casa tutto un tratto cala il silenzio perché Becker si alza il direttore Becker ed è pallido come un morto è pallido solo i suoi occhi sono rossi comincia a parlare con palpitante solennità una buona volta esplode dopo una lotta con se stesso una buona volta doveva pur dirlo scaricarsi finalmente della verità che sino a quel momento aveva portato da solo aprirsi finalmente gli occhi a noi tutti abbagliati e ammaliati sull'idolo la cui proprietà tanto gli invidiavamo e mentre gli ospiti chi seduto chi in piedi bloccati paralizzati circondavano la tavola elegante con gli occhi spalancati senza credere alle proprie orecchie quell'uomo in una spaventosa esplosione citasse il ritratto del suo matrimonio dell'inferno del suo matrimonio questa moglie quella là quante falsa bugiarda e bestialmente crudele com'era incapace d'amare e ripugnantemente vuota come trascorreva tutta la sua giornata nell'indolenza più corrotta e dissoluta per risvegliarsi a una vita ipocrita soltanto la sera sotto la luce artificiale come durante il giorno la sua unica attività fosse quella di martirizzare il suo gatto con crudele ingegnosità come lo tormentasse sino a farlo sanguinare con i suoi malvagi capricci come lo tradisse svergognatamente con domestici, carzoni, artigiani mendicanti che bussavano alla porta facendo di lui un cornuto come prima avesse tirato anche lui stesso nel barato del suo marciume lo avesse avvilito, macchiato, avvelenato come avesse sopportato tutto questo per l'amore che un tempo nutriva per quell'imbrogliona e perché la stessa in fin dei conti era solo miserabile e degna di compassione come però alla fine si fosse stancato dell'invidia delle congratulazioni dei brindisi e una buona volta avesse dovuto vuotare il sacco perché esclamò non si lava nemmeno è troppo pigra per farlo è sporca sotto la sua biancheria di pizzo fu portato fuori da due uomini gli uomini si dispersero qualche giorno dopo Becker evidentemente previo accordo con la moglie fu ricoverato in un istituto per la cura di malattie nervose era però perfettamente sano erano state le circostanze a fargli compiere quel gesto estremo in seguito i Becker si trasferirono in un'altra città grazie a tutti 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 grazie a tutti